Ciao sono la master Irene Merlo, oggi vorrei parlarti di una sezione del catalogo dedicata ai costruttori bianchi. Iniziamo con tre costruttori biancolatte. Il primo è il costruttore Baby Boomer White Builder Gel, dalla pigmentazione delicata, semi coprente, autolivellante e molto facile da lavorare. La sua consistenza è morbida, pertanto consigliamo di lavorarlo con un pennello piuttosto flessibile e lungo, come il Nero Merlo 2. Tra i tre costruttori biancolatte questo è il più autolivellante e quello con la coprenza meno accentuata. Il secondo costruttore Baby Boomer è il Crystal White, che come indica il nome è arricchito di particelle iridescenti. La sua consistenza autolivellante ne facilita l'utilizzo. La presenza dei glitter lo rende leggermente più viscoso rispetto al Baby Boomer White classico. Per lo stesso motivo anche la coprenza risulta leggermente maggiore. Il terzo costruttore biancolatte è il Baby Boomer 2. Il prodotto si presenta con una viscosità più gelatinosa e una pigmentazione più accentuata e vivace. La sua capacità di restare più fermo ci permette di utilizzarlo anche per spessori maggiori, riuscendo ad ottenere il risultato finale in un unico passaggio. La maggiore pigmentazione di questo prodotto ci permette di ottenere una maggiore coprenza e anche un maggior contrasto qualora lo utilizzassimo per la realizzazione del Baby Boomer. Con il Baby Boomer 2 possiamo utilizzare anche un pennello un pochino più rigido, come il nero merlo 3 o il pennello 6 gel. Tutti e tre i costruttori Baby Boomer sono stati creati espressamente per la tecnica Baby Boomer in struttura, in abbinamento con i costruttori rosati. In realtà però sono utilizzabili anche per coperture complete, effetto latte, tanto di tendenza in questo periodo. Vediamo adesso gli altri due costruttori bianchi. Il primo è il costruttore Extreme White. Consistenza molto viscosa e pigmentazione molto elevata sono le due caratteristiche di questo materiale. Il prodotto va pertanto utilizzato in strati abbastanza sottili e polimerizzato a lungo all'interno della lampada. Sarà consigliato l'utilizzo della lampada led. Il secondo costruttore bianco gesso è il Builder White 2 Renew. Anche in questo caso siamo di fronte ad un'altissima pigmentazione con una viscosità solo leggermente meno accentuata. Sia il costruttore Extreme White che il costruttore Builder White 2 Renew sono nati espressamente per la tecnica di French bianca in struttura. Per la realizzazione della French inversa con questi due materiali è necessario l'utilizzo sopra uno strato di gel trasparente precedentemente polimerizzato. Per entrambi possiamo utilizzare il pennello 6 gel. Questi costruttori e tutti i prodotti Crystal Nails presenti nel catalogo li troverai presso tutti i rivenditori Crystal Nails d'Italia e sul sito www.crystalnails.it. Inoltre ti invito a provare tutti i nostri costruttori durante i corsi Crystal Nails in aula. Io e i miei colleghi ti aspettiamo. A presto!